di margherite ursenar memorie di adriano voce di lorenzo pieri al mio ritorno a roma avevo ritrovato lucio un tempo avevo assunto verso di lui qualche impegno di quelli che generalmente non ci si preoccupa affatto di mantenere ma che io avevo rispettati del resto non è affatto vero che gli avessi promesso la porpora imperiale sono cose che non si promettono ma per una quindicina d'anni avevo pagato i suoi debiti soffocato i suoi scandali risposto senza indugio alle sue lettere che erano deliziose ma che finivano sempre con qualche richiesta di danaro per lui o di avanzamento per i suoi favoriti era legato troppo intimamente alla mia vita per potervelo escludere qualora l'avessi voluto ma non volevo niente di simile aveva una conversazione scintillante quel giovane che ritenevano frivolo aveva fatto letture più scelte più vaste dei letterati di mestiere era ad un gusto squisito in qualsiasi campo si trattasse ed esseri umani oggetti usanze o della prosodia esatta ad un verso greco al senato lo giudicavano abile e sarà fatta una reputazione di primordine come oratore i suoi discorsi stringati ricchi ad un tempo servivano così come egli li pronunciava di modello ai maestri d'eloquenza l'avevo fatto nominare pretore poi console aveva esercitato queste funzioni con decoro pochi anni prima gli avevo fatto sposare la figlia di nigrino uno dei consolari giustiziati all'inizio del mio regno quell'unione divenne l'emblema della mia politica di pace la giovane donna non fu troppo felice si lamentava ad essere negletta eppure aveva avuto tre figli da lui di cui uno maschio alle sue lagnanze quasi continue egli rispondeva con cortesia glaciale che ci si sposa per la famiglia e non per sé e che un contratto così grave non contempla i giochi spensierati dell'amore il suo modo di vivere esigeva delle amanti per farne mostra e facili schiave per la volutà si estenuava nel piacere ma così come un artista si sfibra per realizzare un capolavoro non sta a me rimproverarlo lo guardavo vivere la mia opinione su di lui si modificava senza posa il che accade solo per gli esseri che ci toccano da vicino gli altri ci contentiamo di giudicarli alla grossa e una volta per tutte a volte mi turbavano in lui un'insolenza deliberata una durezza una frase scioccamente frivola in genere mi lasciavo trascinare da quello spirito gaio e leggero un'osservazione tagliente pareva far presentire d'un tratto il futuro statista ne parlai a marcio turbo il quale dopo la sua faticosa giornata di prefetto del pretorio veniva ogni sera a conversare con me degli avvenimenti del giorno e a disputare una partita ai dadi prendevamo in esame minuziosamente le probabilità che lucio aveva di adempiere con decoro ai doveri imperiali i miei amici si meravigliavano dei miei scrupoli c'era chi scrollando le spalle mi consigliava di fare a mio modo quei tipi lì si immaginano che si lascia qualcuno la metà del mondo come gli si lascerebbe una casa di campagna la notte ci ripensavo lucio aveva appena trent'anni che cos'era cesare a trent'anni se non un figlio di famiglia oberato di debiti segnato a dito per gli scandali come durante i tristi giorni di antiochia prima della mia adozione da parte di traiano pensavo con una fitta al cuore che non c'è nulla tanto lento quanto la vera nascita ad un uomo io stesso avevo passato i trent'anni all'epoca in cui la campagna di pannonia aveva aperto gli occhi sulle responsabilità del potere a volte lucio mi sembrava più maturo di quel che non fossi io a quell'età mi risolsi bruscamente in seguito ad una crisi da sfissia più grave delle altre che sopravvenne a rammentarmi che non avevo più tempo da perdere adottai lucio il quale prese il nome di elio cesare era ambizioso ma con non curanza era esigente senza essere avido da troppo tempo aveva l'abitudine di ottenere ogni cosa e accettò la mia decisione con disinvoltura commisi l'imprudenza di dire che quel principe biondo sarebbe stato radioso sotto la porpora e i malevoli si affrettarono a dichiarare che compensavo con un impero l'intimità voluttuosa d'un tempo significava non comprendere come funziona lo spirito d'un capo per poco che meriti il titolo e il posto se considerazioni del genere avessero avuto il loro peso non sarebbe stato lucio il solo sul quale avrei potuto far cadere la scelta mia moglie era morta in quei giorni nella sua residenza al palatino che la continuava a preferire a tivoli dove abitava circondata da un'angusta corte di amici e parenti spagnoli i soli che contavano per lei a poco a poco erano cessati tra noi i riguardi le convenienze le fragili velleità d'intesa lasciando a nudo l'antipatia l'astio il rancore e da parte sua l'odio negli ultimi tempi le feci visita la malattia aveva inasprito ulteriormente il suo carattere acre e tetro quell'incontro le fornì l'occasione per recriminazioni violente che la sollevarono e alle quali ebbe l'indiscrezione di abbandonarsi davanti a testimoni disse che si rallegrava di morire senza figli i miei figli mi avrebbero rassomigliato senza dubbio ed ella avrebbe provato per loro la stessa avversione che provava per me questa frase nella quale fermenta tanto rancore è la sola prova d'amore che la m'abbia dato la mia sabina rievocavo i soli ricordi tollerabili che sempre sussistono d'un essere quando ci si prende la pena di cercarli rammentai una cesta di frutta che m'aveva inviata una volta il giorno del mio anniversario dopo una lite passando in lettiga nelle anguste viuzze del municipio di tivoli davanti ad una modesta casa da villeggiatura che un tempo apparteneva a mia suocera matidia evocavo con amarezza le notti di un'estate lontana quando avevo in vano cercato di trovare il piacere in quella sposa frigida e dura la morte di mia moglie mi turbò assai meno di quella della buona rete la direttrice della villa rapita l'inverno medesimo da un attacco di febbri dato che il male che uccise l'imperatrice mal diagnosticato dai medici le procurò verso la fine atroci dolori viscerali mi si accusò di beneficio e questa voce insensata trovò facilmente credito inutile dire che un delitto così superfuo non m'aveva tentato mai forse fu la morte di mia moglie che indusse serviano a tentare il tutto per tutto l'ascendente di cui ella godeva a roma gli era saldamente favorevole crollava con lei uno dei sostegni più rispettati per di più era entrato allora nel novantesimo anno d'età non aveva tempo da perdere neanche lui si sforzava da qualche mese di attirare presso di sé piccoli gruppi di ufficiali della guardia pretoriana a volte osò sfruttare quel rispetto superstizioso che ispira l'estrema vecchiezza per farsi trattare da imperatore tra quattro mura io di recente avevo rafforzato la polizia segreta militare un'istituzione ripugnante lo ammetto ma che gli eventi dimostrarono utile non ignoravo nulla di quei conciliaboli segreti nei quali il vecchio ursus insegnava al nipote l'arte dei complotti l'adozione di lucio non sorprese il vegliardo da tempo riteneva le mie esitazioni in proposito una decisione ben dissimulata ma approfittò per agire nel momento in cui l'atto d'adozione era ancora a roma una materia controversa il suo segretario crescente stanco di 40 anni di fedeltà mal retribuita palesò il suo progetto la data del colpo il luogo il nome dei complici l'immaginazione dei miei nemici non s'era data molta pena si contentavano di copiare semplicemente l'attentato meditato un tempo da quieto e nigrino avrei dovuto essere trucidato durante una cerimonia religiosa in campidoglio e il mio figlio adottivo sarebbe caduto con me la notte stessa presi le mie precauzioni il nostro nemico aveva vissuto fin troppo avrei lasciato a lucio un'eredità scevra di pericoli verso la dodicesima ora in un'alba grigia di febbraio si presentò in casa di mio cognato un tribuno che recava una sentenza di morte per serviano e per suo nipote gli era stato comandato di attendere nel vestibolo che l'ordine che lo conduceva fin lì fosse compiuto serviano fece chiamare il suo medico tutto si svolse semplicemente prima di morire ma augurò di ispirare lentamente fra i tormenti di un male incurabile senza avere come lui il privilegio di una breve agonia il suo voto è già stato esaudito non avevo ordinato alla leggera quella duplice esecuzione in seguito non ne provai alcun rimpianto e ancor meno rimorsi si saldava così un vecchio conto ecco tutto la vecchiaia non mi è mai sembrata una scusante alla perfidia umana anzi son più disposto a considerarla una circostanza aggravante la sentenza di akiba e dei suoi accoliti mi aveva fatto esitare più a lungo vegliardo per vegliardo preferivo ancora il fanatico al cospiratore quanto a fusco benché mediocre e totalmente alienatomi dal suo odioso avo era pur sempre il nipote di paolina ma i legami del sangue sono molto deboli che che se ne dica quando non c'è un affetto a rinsaldarli lo si può constatare presso i privati durante le più banali questioni ereditarie mi impietosiva un poco di più l'età giovanile di fusco aveva diciotta anni appena ma l'interesse di stato esigeva quella soluzione che il vecchio ursus si era quasi preso il gusto di rendere inevitabile e ormai ero troppo vicino alla mia morte per aver tempo di meditare su quella duplice fine per qualche giorno marcio turbo raddoppiò la vigilanza intorno a me gli amici di serviano avrebbero potuto vendicarlo ma non avvenne nulla né attentati né sedizioni né mormorii non ero più il nuovo venuto che cercava di attirare dalla sua l'opinione pubblica dopo l'esecuzione di quattro consolari pesavano in mio favore 18 anni di giustizia i miei nemici erano esecrati in blocco la folla mi approvò per essermi sbarazzato di un traditore fusco fu compianto senza del resto essere giudicato innocente il senato lo so bene non mi perdonava d'avere colpito ancora una volta uno dei suoi membri ma tacque e tacerà fino alla mia morte come era avvenuto l'altra volta una buona dose di clemenza mitigò presto quella dose di rigore nessuno dei sostenitori di serviano ebbe la minima molestia la sola eccezione a questa regola fu l'insigne a pollo d'oro astioso depositario dei segreti di mio cognato il quale perì con lui quell'uomo di talento era stato l'architetto prediletto del mio predecessore aveva disposto con arte i grandi blocchi della colonna traiana non c'era molta simpatia tra noi un tempo aveva deriso i miei maldestri tentativi da dilettante le mie coscienziose nature morte di zucche e cetrioli da parte mia avevo criticato le sue opere con la presunzione dei giovani più tardi egli aveva denigrato le mie non conosceva l'arte greca della grande epoca e mi rimproverava ad aver popolato i nostri templi di statue colossali che se si fossero alzate in piedi avrebbero spezzato con la fronte la volta dei santuari critica sciocca che colpisce fidia ancora più di me ma gli dèi non si alzano in piedi non si alzano né per avvertirci né per proteggerci né per ricompensarci né per punirci non si levarono quella notte per salvare Apollo d'oro grazie a tutti grazie a tutti